ciao amici ricaricatori benvenuti sul canale come prima cosa vi chiedo un like a fiducia perché per il canale è veramente molto molto importante per quanto riguarda invece non iscritti mi chiedo di iscrivervi al canale per lo stesso motivo del like allora oggi testeremo il bismuto e lo faremo in calibro 28 sarà un test completo quindi sia in canna manometrica che in placca se ci sarà la possibilità ma spero di sì viste le condizioni meteo e per prima cosa vi parlerò delle caratteristiche del bismuto che è un materiale che si può utilizzare dove vige il divieto dell'uso del piombo come materiale più comune per le munizioni no toxic c'è sicuramente il ferro l'acciaio l'acciaio però presenta non pochi problemi a livello di prestazioni il tiro si accorcia notevolmente e l'effetto finale sul selvatico non è come ai livelli del piombo questo perché il ferro ha due caratteristiche che non lo rendono proprio ottimale all'uso venatorio uno è il peso specifico che è molto più basso confronto al piombo che intorno ai 7,8 grammi per centimetro cubo due per la propria durezza è un materiale infatti che non riesce a cedere l'energia come fa il diciamo il pallino in piombo queste sue caratteristiche specialmente il peso riducono notevolmente la velocità residuo essendo un materiale che decelera molto facilmente essendo molto più leggero del pallino in piombo questo ne comporta che a livello già di velocità iniziale il pallino in ferro va accelerato notevolmente confronto all'utilizzo del pallino in piombo mentre un buon materiale con un peso specifico intorno ai 9 grammi per centimetro cubo alternativo al piombo può essere il pallino di lame ha delle caratteristiche balistiche che lo rendono materiale notevolmente superiore al pallino in ferro avendo un peso specifico superiore al ferro essendo più morbido confronto al ferro risulta essere non a livello del pallino in piombo ma come già detto sicuramente superiore all'utilizzo dell'acciaio altro materiale alternativo è il tungsteno il tungsteno in base alle varie leghe ha un peso specifico che può andare dai 12 ai 18 grammi per centimetro cubo è un materiale molto molto duro è un materiale che proprio per le sue caratteristiche di peso riesce a regalare delle prestazioni almeno in termini di velocità residue e di compattezza delle rosate superiore addirittura al pallino in ferro il problema di tutti questi materiali che ho elencato o meglio i problemi sono due uno l'utilizzo è regolato da normative diverse per quanto riguarda il piombo sono dei materiali duri sono dei materiali che a contatto con le pareti della canna o meglio con le pareti dello strozzatore possono provocare problemi di levigatura quindi possono andare a levigare ad assottigliare gli acciai con i quali vengono a contatto per sfregamento di conseguenza l'utilizzo di queste leghe sia dell'acciaio sia del rame e sia del tungsteno è vincolato all'uso di borre contenitori particolari inoltre per alcune cartucce quelle definite hp lo stesso uso è vincolato da una punzonatura particolare fatto dal banco nazionale di prova delle canne stesse però il diciamo tra virgolette il problema più importante quello proprio dell'utilizzo dei contenitori steel dei contenitori che sono dei contenitori diciamo più spessi più duri che hanno il compito di proteggere la canna da queste da questi pallini fatti in una lega più dura questo cosa comporta comporta inevitabilmente una riduzione del del peso del quantitativo di pallini che noi andremo a mettere all'interno della cartuccia poiché tutti i pallini dovranno essere contenuti dal contenitore e il contenitore è più spesso diciamo confronto ai contenitori normali mentre un altro materiale alternativo materiale del quale andremo a parlare oggi è il bismuto il bismuto per caratteristiche è definito un no tossic quindi può essere utilizzato in alternativa al piombo ma la cosa più importante che non non è come gli altri materiali cioè regolato dalle norme per quanto riguarda le cartucce steel per le cartucce composte da pallini che hanno un certo grado di durezza quindi il bismuto può essere utilizzato e può essere caricato quasi al pari di come si fa con con il pallini in piombo a livello di caratteristiche balistiche si avvicina tantissimo al rame l'unico handicap di questo materiale è la sua oppure era la sua fragilità poiché è un materiale che se è compresso tende a spezzarsi questo inconveniente è stato attenuato parecchio dall'utilizzo di una piccola percentuale di stagno all'interno della lega è un pallino che come ho già detto può essere caricato più o meno come si carica il il piombo quindi con le stesse identiche grammature a parità di grammature si avrà un leggero aumento delle pressioni medie di conseguenza se si vuole più o meno avere le stesse caratteristiche a livello pressorio delle cartucce che noi comunicamente utilizziamo con il piombo dovremmo ridurre la quantità di pallini la quantità in peso di pallini di qualche grammo o di un grammo come nel caso del calibro 28 che andremo a vedere allora così si presenta la cartuccia finita cartuccia che utilizza il bismuto con un caricamento che andremo a scoprire adesso insieme come bossolo è stato utilizzato un fiocchi svasato da 70 con innesco 615 ho acceso la bilancia ma in realtà non serve perché già avevo pesato propellente utilizzato è una tecna in dose di un grammo e 05 lotto 222 se non erro un attimo che controllo sulla sulla bancatura se lotto 222 in dose di un grammo e 05 contenitore utilizzato è un baschieri z2 mh 15 allora una parolina sul contenitore si è scelto di utilizzare un baschieri proprio per le sue caratteristiche ammortizzanti no anche per preservare il colpo da riete essendo il bismuto come detto primo materiale più fragile confronto al al piombo quindi non a livello di deformazione come il piombo ma addirittura a livello di rottura ok quindi l'utilizzo di questo contenitore tende a preservare proprio il pallino in bismuto allora il contenitore h 15 utilizzato come questo caso risulta un po bassino che con alcuni bossoli si riesce ad arrivare praticamente a livello quota chiusura senza alcun problema con dei bossoli più voluminosi o con dei bossoli con un buscione diverso si deve mettere un piccolo spessorino di un millimetro un millimetro e mezzo quindi magari un cartoncino di chiusura all'interno del contenitore stesso questo perché poiché utilizzando l'altro contenitore baschieri l'h 18 in realtà come quota siamo troppo alti quindi meglio utilizzare il 15 in questo caso con questi bossoli rientra tranquillamente con altri bossoli ci può essere il problema di volume che va risolto con un piccolo spessorino a livello del contenitore allora bismuto è stato dosato in 21 grammi in poche parole si è arrivato quasi al caricamento classico no di tecna che è 105 22 in questo caso abbiamo fatto 105 21 con con il bismuto allora accendiamo la stazione che alimenterà la nostra pressa andre andiamo a chiudere con la pressa dell'omv utilizzando tutto il kit di chiusura dell'omv tra cui il nuovo ribassatore che vi mostrerò in video allora questo nuovo ribassatore che come vedete ha una diversa con le città interna cioè è stato modellato in modo differente dal vecchio ribassatore che vi sto mostrando in questo momento questa questo diverso profilo ha delle migliorie riesce ad essere più fluido nella chiusura delle pliche quindi rimedia a quel piccolo inconveniente della limatura diciamo della della plica nella parte apicale inoltre avendo una conicità più ampia riesce a chiudere senza problemi quelle incisioni stellari che rimangono più aperte che rimangono più aperte che diventano più aperte quando magari prima si incide poi si incide si aspetta qualche seconda e si passa al ribassatore ok quindi è una ulteriore miglioria sia estetica che pratica del ribassatore della omv allora procediamo con con l'incisione scendiamo la pressa eccoci con la cartuccia chiusa vediamo se riusciamo a metterla a fuoco ok chiusura effettuata ad una quota di 60 mm e mezzo prima di andare avanti con con farvi vedere il certificato di banco vi dico che come al solito questo è un assetto realizzato e bancato dal trio big e non è l'unico ci sono diciamo degli degli upgrade quindi dopo di questo sono stati fatti sempre in calibro 28 altri assetti così come sono stati fatti negli altri calibri quindi sia in calibro 410 sia in calibro 12 e così via cioè anche negli altri allora vi mostro la bancatura poi parleremo di un altro dato dolente che è quello del costo dei materiali alternativi tra cui anche del bismuto e poi vedremo la prova in placca quindi vi espongo la bancatura voi di solito la vedrete a video prima come al solito vi ricapito l'assetto assetto realizzato dal trio big in calibro 28 bossolo 70 innesco 615 bossolo tipo 3 trasparente tecna lotto 2 22 in dose di un grammo e 0 5 contenitore baschiere pellagri da 15 mm pallino del bismuto numerazione del 7 cosa che non ho detto prima numerazione del 7 chiuso in stellare ad una quota di 60 mm e mezzo come bismuto di conseguenza anche su questa carica essendo una carica che come vi ho detto prima arriva al limite di quota chiusura attualmente il bismuto si trova molto più facile in piombo 5,5 quindi una cartuccia che può essere magari dedicata alla caccia alle anatre alle anatre minori in questo caso invece la vedrei come una cartuccia ottima ad utilizzare a beccaccini quindi come sto dicendo con un pallino 5,5 che attualmente trovate molto più facilmente in commercio potete usarla, caricarla in questo modo pari pari e magari utilizzarla su prete di dimensioni un pochino più grandi allora media su quattro colpi tempo di canna pari a 2464 microsecondi velocità media rilevata a 2,5 metri dal vivo di volata pari a 396 metri al secondo il bismuto essendo di un peso specifico più alto con fronte al ferro non ha bisogno di quelle velocità come come l'acciaio no? quindi con quelle velocità di oltre 420 metri al secondo ma si lancia come detto prima come se fosse rame quasi come se fosse piombo quindi calcolate che quei 10 metri al secondo in più 15 metri al secondo in più non vanno a compensare il divario di peso specifico quindi di velocità residua come se fosse un pallino in piombo però vanno a dare quel pizzico di velocità residua in più che magari può essere utile quindi 396 metri al secondo che ha 2,5 metri su canna cilindrica che per un 28 non è poco il tutto con una pressione di 809 bar con un delta pressorio di 66 bar cartuccia pure costante cartuccia con una pressione leggermente più alta che confronto a una carica della stessa tipologia magari fatta in piombo vuoi perché ipoteticamente il piombo è ancora più morbido quindi in conseguenza tende ad attenuare meglio il colpo d'ariete e quindi a vivacizzare meno la combustione in poche parole questo è un assetto che ha una rigidità in parte più elevata confronto all'assetto in piombo il pallino in piombo allora cartuccia delle ottime caratteristiche cartuccia che specifica anche in calibro 410 che Alex ha provato durante operazioni di contenimento che si è rilevata molto efficace con contenimento ai piccioni che si è rivelata molto efficace con degli abbattimenti puliti pulitissimi nell'ordine delle normali distanze di tiro quindi alternato cartucce in piombo con cartucce al bismuto non trovando a quella distanza e su quel selvatico delle enormi differenze ok allora detto questo parliamo di una nota dolente che è il costo ok i pallini al bismuto si vanno ad inquadrare in quella fascia di prezzo dei pallini in rame quindi parliamo di circa 60 euro chilo una differenza notevole con i pallini in piombo però questo è il costo di una cartuccia che si può utilizzare dove non si può utilizzare il piombo è una cartuccia che a differenza dell'acciaio ha delle caratteristiche balistiche superiori delle caratteristiche che riescono ad attenuare in parte quelle difficoltà dovute alla mancanza dell'utilizzo del pallino in piombo è nota particolare cioè quello che lo rende diverso da tutte le altre leghe che si può utilizzare senza l'ausilio di contenitori particolari quindi si possono mettere più pallini molti più pallini e si può utilizzare su fucili che non siano gigliati che non abbiano la prova superiore per l'utilizzo dei pallini in acciaio quindi serve la soluzione ottimale sia per chi ha fucili non gigliati sia per chi vuole non allontanarsi tanto tanto dal caricamento che solitamente si fa con il piombo perché il caricamento che si fa con le leghe come l'acciaio il rame e il tungsteno è completamente diverso attenzione dal caricamento che si fa con i pallini in piombo non è solo l'utilizzo di contenitori particolari in quel caso le pressioni viaggiano ok ma viaggiano tantissimo quindi si deve adeguare la dose magari si deve fare un adeguamento a volume si deve poi bancare la cartuccia necessariamente perché si rischia di avere ma si rischia veramente di avere faccio un esempio in calibro 28 una 16 grammi da 1200 bar quindi bisogna stare veramente molto molto attenti detto questo parliamo come ho detto prima il costo si aggira intorno le 60 euro al chilo costo più o meno uguale al rame superiore confronto all'acciaio che è molto più economico che è simile a quello del pallino in piombo inferiore confronto al tungsteno che si aggira intorno ai 100 130 euro al chilo praticamente una cartuccia del genere verrebbe a costare circa 1 euro e 70 completo di polvere così come come la vedete 1 euro e 70 un pacco da 10 costerebbe a noi ricaricatori 17 euro però vi ripeto sono delle cartucce particolari ok particolari detto ciò ringraziamo come al solito Alex per la fornitura anche di questo assetto e lo andiamo a provare in placca eccoci siamo pronti per la prova in placca o meglio per il test in placca test della cartuccia in bismuto 21 grammi caricati in bismuto in calibro 28 test perché oltre a vedere la concentrazione ad una distanza di 25 metri vedremo come si comporta il bismuto dopo l'impatto in placca l'impatto verso una superficie dura così come il pannello in acciaio della placca lo faremo con un rizzini artemis in calibro 28 dotato di strozzatori extended della gemini full e medium quindi una tre stelle ad una distanza come vi ho detto di 25 metri e partiremo proprio con con il tre stelle quindi prima canna tre stelle 25 metri avviciniamoci alla placca tre stelle 25 metri 21 grammi pallino del set bismuto ecco cosa vi volevo far notare vedete la rosata è molto molto concentrata potete notare l'impronta del bismuto è un pallino del set però ha un'impronta come se fosse un pallino del 6 del 5 per quello motivo perché l'impatto in placca tende a disintegrarsi praticamente non tutto possiamo vedere ci sono alcuni colpi dove nella parte centrale si vede proprio la parte argentata dell'impatto con poi una parte diciamo più annerita intorno che sono quando lo stesso si si frantuma e in più possiamo notare delle piccole impronte ok queste piccole impronte molto probabilmente sono date da alcuni frantumi che diciamo si sono separati prima dell'impatto in placca ok allora vista la rosata che si è avuto a 25 metri con con la tre stelle direi di provarlo a 30 metri con lo strassatore una stella allora siamo ai 30 metri seconda galla strassatore gemini extended full proviamo andiamo a vedere ecco allora ho fatto bene a provarla a 30 metri perché la la rosata con lo strassatore è ottima con con lo strassatore full a 25 metri sicuramente sarebbe stata concentrata in un modo non non ottimale forse un pochino troppo concentrata invece questo a 30 metri fa più che bene bisogna vedere come si comporta il bismuto a 30 metri ok prova conclusa come vi ho detto è stato provato in fase di contenimento contenimento di piccioni con tiri nell'ordine dei 20-25 metri e non ha dato questa impressione di essere così distante dal dal piombo almeno per quanto riguarda quell'uso diciamo specifico ok seguiranno aggiornamenti buona ricarica a tutti